Calzedonia ha festeggiato il suo diciottesimo anno di attività a Portoferraio, regalando ai propri clienti un negozio completamente rinnovato. Un nuovo look che permette un'esposizione più accurata di tutti e tre i reparti, quello dedicato alle donne, agli uomini e ai bambini. E abbiamo ora rifatto il negozio nuovo e speriamo di affrontare una bella stagione. La collezione sarà piena di sorprese e abbiamo una stilista nuova. Il negozio è stato rinnovato perché praticamente ora in azienda hanno delle concezioni diverse. La zona vendita e oltretutto avevano a disposizione degli arredamenti molto chiari che danno molto spazio e infatti anche guardandolo poi la gente che verrà al negozio vedrà che comunque è proprio completamente rinnovato. Ha proprio un'immagine completamente diversa, infatti quando abbiamo chiuso abbiamo detto proprio il new look e cambierà proprio completamente anche il metodo di esposizione. Nei giorni scorsi si è svolta con successo l'inaugurazione del nuovo locale in via Carducci. Tutta la gente è stata contenta perché comunque il negozio secondo me anche a colpo d'occhio dà proprio una bella impressione. Il noto brand nel 2016 ha compiuto 30 anni e da sempre ha come obiettivo quello di rispondere alle esigenze delle donne. Calcidonia l'altro anno ha fatto 30 anni di attività e all'interno ha sia intimissimi che poi il nuovo concept di Zenith, falconeri e poi ne ha uno nuovo che si chiama Temi che è praticamente una cosa completamente nuova che tratta abiti da sposa. Allora le cose sono un po' cambiate perché loro vogliono vestire completamente le gambe delle donne e i costumi, perciò non troveranno più i clienti magari il solito vestitino da tutti i giorni, però magari troveranno molta più scelta nel discorso beachwear e queste cose qui un pochino più concentrato sul mare. Mare e comunque beachwear cose per andare al mare d'estate ed inverno tutte le tipologie di calzetteria per vestire le gambe donne a uomo e bambino. Calcidonia è sinonimo di moda e tendenza per calze, collant, leggings, costumi e beachwear e sarà così anche per la primavera-estate 2017. A livello di leggings abbiamo la novità che già l'altro anno era un po' iniziata e abbiamo un sacco di prodotti con toppe e applicazioni. Abbiamo ad esempio un jeans bianco che va tantissimo con delle perline, anche quello è comunque una cosa particolare. Tutti dei leggings jeansati, quasi tutti i jeans che hanno toppe e cose comunque... Non va più praticamente il solito jeans strappato classico di sempre, vanno queste cose qui. Invece a livello di estate, a livello di mare, di beachwear, queste cose qui, tantissimi abiti lunghi avremo e poi imperverserà il rosso e il giallo. Siamo in love with the shape of you oh